I ragazzi devono tornare a scuola Perché la scuola è importante Perché la scuola è formazione Perché la scuola è importante Perché la scuola è formazione Perché la scuola è importante Per i ragazzi Perché la scuola è importante Per i ragazzi I ragazzi devono tornare a scuola 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 Bisogna attuare le misure Disposte dal governo Ma bisogna favorire Il ritorno dei ragazzi a scuola Bisogna attuare le misure Disposte dal governo Ma bisogna favorire Il ritorno dei ragazzi a scuola I ragazzi devono tornare a scuola I ragazzi devono tornare a scuola E' un loro diritto andare a scuola E' un loro diritto andare a scuola Anche in questi tempi di Covid-19 Anche in questi tempi di Covid-19 I ragazzi devono tornare a scuola I ragazzi devono tornare a scuola I ragazzi devono tornare a scuola I ragazzi devono tornare a scuola